eccomi tornato bimbi per alcuni consigli da paura ragazzi milano di merda ebbene sì questo qua cronache di una città tossica quindi si parla delle parti diciamo meno nobili della città da pere ma io volevo consigliarvi anche soprattutto il fantasma della verità del collettivo un'ambigotopia su philip dick vedete 40 anni con philip dick che lo conosce questo qui è un must il collettivo un'ambigotopia negli anni 70 aveva fatto una fanzine politica di fantascienza marxiana c'è marziana marxista sempre sulla stessa falsariga philip dick la macchina della paranoia e enciclopedia di chiana caronia e gallo che erano anche loro del collettivo un'ambigotopia bellissimo libro guardate quanto è spesso quindi un trittico di agenzia x consigliato da cremo